Io da giornalista per 21 anni ho consumato il territorio, ho girato e dopo 21 anni finiamo per dire le stesse cose, per cui ho deciso di candidarmi sindaco perché è il caso di cambiare. Siamo al mercato tamburi ed è giusto ascoltare dagli operatori commerciali quella che è la crisi, quelli che sono i problemi. Ecco qui abbiamo uno noto operatore, quali sono le criticità? Le criticità che questo mercato non ha norma, non ci sono servizi genici, noi stiamo coperti nel senso che stiamo messi male come posizione, che non stiamo al centro, la gente qua viene solamente i clienti nostri, chi viene da fuori, state, non sanno neanche che noi stiamo aperti qua. Quindi non siete in una zona centrale, questo quindi si danneggia il commercio, ma la cosa ancora più grave, ripeto, è la carenza e l'assenza di servizi genici. Io dico l'ex sindaco Melucci, Musillo, che sono tutte e due la stessa cosa, che hanno governato insieme, amministrati insieme, ma si rendono conto un mercato senza servizi ingegneri, ma con quale coraggio possono andare a chiedere il voto ai cittadini? Il bagno, ci sono persone a te, abbiamo voluto ascoltare la viva voce per farvi capire, i commercianti non chiedono altro, chiedono servizi e voi Melucci e Musillo in quattro anni e mezzo, ve ne siete fottuti, fottuti altamente, ora avete l'ipocrisia di girare per i mercati e chiedere il voto, ma mandateli a quel paese, a questi due.